Sì, non c'è nessuno. Sì, questo è quello che voi dovete aiutare, aiutare il mio fratello, aiutare il mio fratello e aiutare il mio fratello, aiutare il mio fratello Sì, questa è la città, io sono in Poda Poda, l'avevo il mio fratello, l'avevo il mio fratello, l'avevo il mio fratello, l'avevo il mio fratello Sì, questo è il mio fratello, l'avevo il mio fratello, l'avevo il mio fratello, l'avevo il mio fratello Nel mio fratello, l'avevo il mio fratello, l'avevo il mio fratello, l'avevo il mio fratello, con me Questo è il Tuk Tuk Quindi siamo qui in Castel Forna Grazie a tutti. 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 So, we put got past. See how beautiful sunset. Sunset is really beautiful. So, this is not a bad life. That is, that road is really beautiful. So, there's a lot of Catholic here in Uganda. So, we have a big church school cathedral, right here in this place we go. And this is a Catholic school, girl school, boarding school called Sacra Hutt. It's an old school, but it's a very good school. So, that is Sacra Hutt. It's a good school. The girl school. So, you can see how they have a lot of trees, a lot of fruits there, mangoes, bananas, papayas, everything. See? Sacra. So, yeah. So, yeah. So, here we move to God a lot. We believe in God. God is definitely moving to God. So, guys, now we are going to Nacho, which is the main hospital. So, for modern Uganda, we have got a hospital, but this is the main hospital. It is a Catholic hospital. Most of the nearest hospital. So, that is because of the sun. So, this found the mark of my video. Subscribe to my channel. Like my channel and share my video with a sweet comment. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.